Con una partita di personalità. I rosso-blu pareggiano 11 allo stadium e frenano i bianconeri. Nel primo tempo il Bologna punisce i padroni di casa con un gol di Ferguson. Nella ripresa gli uomini di Allegri trovano il pareggio nel finale con Vlaovic. Veementi proteste del Bologna per un contatto in area Ailing Enduai, non punito con rigore dall'arbitro. E dal VAR. Mezz'ora in campo per Pogba.